Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare delle nuovissime VanRyze LDR con il freno a disco. Perché qualche mese fa era già uscito il nuovo telaio VanRyze che per chi ha guardato quel video attentamente e l'ha ascoltato fino alla fine ha sentito il mio spoiler che dicevo che tra qualche mesetto arriverà lo stesso telaio con la versione disco. Quindi ti consiglio di stare attaccato fino alla fine in questo video perché è probabile che entro fino ai video ci sarà un altro spoiler molto appetitoso. Il telaio lo riprendiamo un attimo perché il nuovissimo telaio VanRyze è l'ideato con delle fibre di carbonio di alto modulo. Entra nel mondo delle performance nel modo migliore. Ti fate un telaio molto leggero che non invidia quelli dei suoi competitor. E andiamo subito a vedere la VanRyze LDR 105. Bicicletta che monta delle ruote full cumbers in tè compatibili tubeless ready. Ha un manubrio e una sella VanRyze. Il peso totale di questa bici con il freno a disco è 8,2 kg che per avere i suoi dischi è veramente un buon peso. Perché ricordiamo che lo stesso modello ultra che c'era in commercio fino all'anno scorso pesava 8 kg quindi solo due etti in più di differenza avendo un freno a disco. Ovviamente tutto l'impianto è Shimano 105 dalla pedivella al cambio alla catena e pacco pignoni a tutto. Quindi per 1999 euro direi una bici azzeccata. E andiamo con la chicca di questo video che è la VanRyze LDR Ultegra in due colorazioni. Colorazione nera e colorazione rossa. La colorazione nera costa 200 euro in meno rispetto alla rosso che è veramente un bel colore visto dallo schermo. Qui andiamo a vedere ha delle Fulgum Racing 700 anche queste compatibili tubeless ready con copertoni Antixone Fusion compatibili tubeless ready. Quindi appena vi arriverà la bici vi consiglio di togliere la camera d'aria e mettere subito il liquido per il tubeless. Così avete una bici con delle ruote tubeless. Scelta molto azzeccata in questo momento. Qui troviamo un manubrio D da zero da una sella Fizzi Cantares e un cambio completo Shimano Ultegra 11 velocità. Perché chi si sta approcciando a comprare queste bici si sta un attimo chiedendo se vale ancora la pena comprare un 11 velocità oppure aspettare che uscirà un 12 velocità. Oppure se uscirà un modello a 12 velocità perché ve lo dico non è da escludere questa cosa. E qui andiamo su una bici da 7 kg 6 con il freno disco quindi bici azzeccatissima anche questa. Una bicicletta con un cambio meccanico non top di gamma perché l'Ultegra ricordiamo è il secondo nella scala della Shimano con questo peso è ancora più azzeccata di quella 105 e la troviamo a un prezzo di 2499 euro in colorazione nera e 2799 euro in colorazione rossa. E spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto mi raccomando non dimenticarti di iscriverti al canale, accendere la campanellina per rimanere sempre aggiornato e mettere un bel like così mi supporterai alla grande. Io ti saluto e ci vediamo al prossimo video.